Sarà emanato nei prossimi giorni il bando attraverso il quale l'amministrazione comunale di Salerno affiderà in gestione le spiagge libere a dei soggetti privati che dovranno garantire e controllare l'accesso sul bagno asciuga ma potranno anche noleggiare e fittare sedie a sdraio ed ombrelloni. Fa parte del piano approvato ieri dall'aggiunta comunale su proposta degli assessori all'ambiente Angelo Caramanno e alla mobilità Mimmo De Maio. Ci siamo organizzati prima di tutto per dare risposta ai dispositivi anti-covid predisposti all'interno dell'ordinanza della regione Campania quindi dovendo garantire il tracciamento dei posti ad assegnare quindi un contingentamento dei numeri sulle spiagge libere quindi diciamo un'indicazione che do ai cittadini salernitani oppure ai turisti che o loro i quali vogliono fruirne che quest'anno l'accesso potrà essere garantito tramite un dispositivo di prenotazione o perlomeno di registrazione al momento quando si arriva in questa zona. Sono zone che saranno attrezzate con un minimo di disposizione di indicazioni dei posti ai quali bisogna poi fare riferimento e quindi ci sarà l'opportunità poi attraverso un bando pubblico che verrà emanato nei prossimi giorni di trovare i soggetti che garanteranno il governo di questi dispositivi quindi l'accesso, la tracciabilità, la disposizione dei posti che sarà già stata fatta dal comune e poter dare un servizio in più ai nostri concittadini.